Allora, il pensatore di cui ci occuperemo oggi è Soren Kierkegaard, filosofo danese che vive ed opera nella prima metà dell'Ottocento, muore a 42 anni e è importante anche perché l'esistenzialismo del Novecento si ispira al suo pensiero, quindi tutti quegli autori che avranno una larga fama e influenzeranno profondamente la cultura della prima metà del Novecento, come per esempio Sartre, come per esempio Heidegger ed altri, e hanno un grosso debito nei confronti di Soren Kierkegaard, ma cerchiamo di evidenziare i punti più importanti del pensiero di Kierkegaard, questa lezione avrà un carattere generale, essendo destinata soprattutto agli studenti del liceo, e vediamo intanto che Kierkegaard si pone in antitesi nei confronti di Hegel, tanto che possiamo dire certamente che egli, allo stesso modo di Schopenhauer, è un pensatore anti-hegeliano. In che cosa consiste l'anti-hegelismo di Kierkegaard? Beh, intanto Kierkegaard rifiuta l'ottimismo razionalistico di Hegel. Hegel vede nella storia un processo dialettico in cui anche il male, anche il momento della negazione, ha un suo significato ben preciso e un significato, possiamo dire, positivo, perché la negazione non è altro che è il preludio ad un innalzamento della coscienza, un innalzamento dello spirito, e dunque anche gli avvenimenti drammatici, tragici, in un certo senso contribuiscono al progresso della storia, al progresso della civiltà. Per Kierkegaard invece il male non redime in nessun modo la storia e non redime in nessun modo l'individuo. Il male è comunque un male radicale legato alla condizione umana, legato soprattutto al peccato originale. Ecco, cominciamo intanto a rilevare che Kierkegaard è un pensatore, possiamo dire, religioso, nel senso che, diciamo così, la religione, la religione cristiana, nella interpretazione luterana e nella sua interpretazione particolare, individuale, che lo porrà poi anche in contrasto con la chiesa ufficiale danese, ecco, la religione ha un grande peso, soprattutto la fede in Dio, è una fede assolutamente paradossale in Kierkegaard, come vedremo, e costituisce appunto la cifra per interpretare il pensiero di questo filosofo. L'altro aspetto per cui Kierkegaard può essere contrapposto in maniera netta a Hegel riguarda l'attenzione esclusiva che egli ha nei confronti del singolo, mentre Hegel ignora il singolo, ignora le esigenze dell'individuo del singolo e tutta la sua speculazione è rivolta verso l'universale. Ma che cosa significa che in Kierkegaard il singolo, diciamo così, occupa tutta la scena della sua riflessione e che egli quindi non ha nessuna simpatia per l'universale hegeliano? Che cosa significa intanto universale? Beh, universale è ciò che riguarda, diciamo così, la comunità. Hegel aveva inteso dare una, come dire, una idea dello sviluppo storico interpretato dialetticamente e entro il quale tutte le formazioni spirituali, quindi le creazioni dello spirito, la società, lo stato, la famiglia, eccetera, eccetera, hanno il loro posto, mentre l'individuo per Hegel non è importante, o meglio l'individuo il singolo è importante soltanto nella misura in cui si universalizza, soltanto nella misura in cui prende parte attiva nella società ed occupa un ruolo. Per fare un esempio molto semplice, io come individuo non sono importante, sono importante in quanto sono un insegnante, sono importante in quanto svolgo una professione che mi inserisce nel contesto generale della società, mentre per Kierkegaard l'individuo, il singolo è importante proprio in quanto singolo. E quindi, come dire, egli ha da fare i conti con se stesso, ha da fare i conti con le proprie angosce, con la qualità della propria, del proprio essere al mondo, delle proprie relazioni con gli altri, del rapporto che gli riesce ad intessere con la religione, con la divinità, eccetera, eccetera. Quindi è che in questo senso tutta l'attenzione di Kierkegaard è rivolta alla esistenza in questo senso. Quindi il singolo emerge in primo piano nella speculazione di Kierkegaard, mentre Hegel lo aveva ignorato, ed emerge appunto come un esistente, come questo singolo qui, questo singolo che io sono, e dunque la filosofia non è altro che in un certo senso una riflessione su se stessi, nel proprio rapporto con gli altri e con Dio. E abbiamo detto che il singolo, la singolarità è la singolarità dell'essere umano, cioè è la singolarità di questo esistente qui che io sono. La parola esistenza quindi è una parola chiave e qui bisogna fare chiarezza perché egli non intende la parola esistenza nel senso comune, nel senso ordinario, per il quale noi diciamo che una certa cosa esiste, presente qui davanti a me, ma l'esistenza è termine che si riferisce esclusivamente all'esistenza umana. Quindi esistente è soltanto l'uomo, perché? Perché l'uomo sostanzialmente è un progetto. Se noi consideriamo l'etimologia di questa parola esistere, ex-sistere, sostanzialmente esistere significa un po' stare fuori di sé, cioè proiettarsi in avanti e quindi gettarsi sempre davanti. La nostra vita non è altro che un progetto continuo, non è altro che una tensione continua verso il futuro, nel senso che ogni momento della nostra esistenza è rivolto verso uno scopo che noi ci proponiamo in un futuro più o meno lontano. Se io per esempio dico, beh questa mattina mi alzerò dal letto e farò colazione, poi andrò al lavoro, ecco che questo mio agire non è altro che uno scegliere che cosa ho intenzione di fare in un futuro prossimo. E quindi la mia stessa vita, la mia stessa esistenza non è altro che un proiettarmi verso un futuro, proiettarmi che è dovuto alla mia scelta, la mia decisione di alzarmi dal letto oppure di restare a dormire, di fare un determinato lavoro oppure di lasciarlo, di sposarmi oppure di non sposarmi e così via. In questo senso soltanto l'uomo esiste, soltanto il singolo essere umano esiste nel senso che può progettare la sua vita, nel senso che ha davanti a sé tutto un ventaglio di possibilità tra le quali egli sceglie. E quindi ecco che il concetto di esistenza implica anche il concetto di possibilità, implica anche il concetto di libertà, il concetto di scelta. Esistenza, possibilità, scelta, libertà sono, nella riflessione di Kierkegaard, parole ricorrenti che appunto caratterizzano in qualche modo l'esistenza umana. E tuttavia queste parole hanno anche un, come dire, un riferimento paradossale al loro contrario. In che senso? È vero che noi scegliamo ogni giorno che cosa fare, che ogni giorno noi progettiamo la nostra vita, se non altro perché continuiamo a fare le stesse scelte. Ed è vero che noi abbiamo l'impressione netta che queste scelte dipendano dalla nostra volontà, per cui in un certo senso noi ci sentiamo liberi di continuare a fare queste scelte oppure no. Ma è altrettanto vero che in un certo senso queste scelte non sono proprio del tutto libere, se noi pensiamo per esempio a come siamo condizionati, a come non possiamo evitare i condizionamenti esterni, a come l'essere umano vive in una dimensione finita, per cui esso è in qualche misura determinato dalle condizioni in cui si trova a vivere, dai genitori che ha avuto in sorte, dall'ambiente in cui è toccato di nascere. Insomma abbiamo anche nella nostra esistenza delle condizioni che non decidiamo noi, delle condizioni a cui siamo soggetti e che evidentemente limitano la nostra libertà, se non addirittura in certi casi l'annullano completamente. Vedete dunque che qui si profila già il carattere paradossale della riflessione di Kierkegaard, di cui egli naturalmente è ben consapevole, che costituisce appunto il centro forse attorno a cui ruota tutto il suo pensiero, e cioè che da una parte noi non possiamo non ammettere di essere liberi e dall'altra però questa libertà sembra essere negata da che cosa? dal limite che caratterizza l'esistenza umana. In Kierkegaard questo limite, essendo egli un pensatore religioso, questo limite altro non è che il peccato di Adamo, il peccato originale che in qualche modo fa dell'uomo un essere che senza l'aiuto imperscrutabile di Dio non può aspirare alla salvezza e quindi non può aspirare a liberarsi dal limite costitutivo che appunto gli toglie in un certo senso la libertà. Quindi abbiamo questa situazione paradossale per cui evidentemente noi scegliamo e nella scelta tra varie possibilità esprimiamo la nostra libertà, ma al tempo stesso, al tempo stesso noi anche non scegliamo. Al tempo stesso bisogna ammettere che essendo gravati dal peccato originale, dal peccato di Adamo, questo peccato evidentemente ci mette in una condizione di insufficienza, in una condizione di, come dire, di mancanza di libertà e alla quale soltanto l'iniziativa di Dio può in qualche modo porre rimedio. Questa condizione paradossale, contraddittoria del singolo, questa condizione per cui noi ci troviamo sostanzialmente in conflitto con noi stessi e quindi la stessa libertà che deve scontrarsi con una non libertà, la stessa possibilità che io ho di scegliere che deve scontrarsi con una impossibilità sostanziale che caratterizza anche la mia esistenza in quanto io sono limitato dall'ostacolo insormontabile del peccato originale in un certo senso da luogo a un sentimento che è profondamente radicato nell'essere umano e che è il sentimento dell'angoscia. Ecco, l'angoscia dunque esprime in maniera chiara, netta, questa condizione paradossale dell'essere umano, condizione per cui non vi è, come dire, un motivo preciso. L'angoscia non è paura, questa tematica verrà poi ripresa anche da Heidegger. L'angoscia è appunto il sentimento di una insufficienza dell'essere umano, è un sentimento indeterminato, io non posso dire che cosa è che mi angoscia, posso dire certamente che cosa è che mi mette paura o paura di qualche cosa di determinato, ma l'angoscia non ha un oggetto, l'angoscia non è motivata da una situazione particolare. Si capisce allora come questo scacco del singolo, questo scacco insuperabile dell'essere umano è di fronte alla propria condizione e dia luogo anche al senso, a un senso di disperazione, cioè la disperazione come portato dell'angoscia, per cui certamente io mi trovo di fronte a diverse possibilità, ma queste possibilità in un certo senso sono sempre in bilico, se io realizzo un mio progetto, ecco questo progetto può essere vanificato da un momento all'altro e alla fine su tutte le mie possibilità incombe la possibilità estrema, quella che Heidegger chiamerà la possibilità dell'impossibilità di ogni altra possibilità e cioè la morte. La morte costituisce diciamo così il punto in cui la mia libertà si riduce, in cui io non ho più alcuna possibilità di scelta perché le scelte si sono in un certo senso esaurite, noi possiamo dire che finché siamo giovani abbiamo davanti a noi tante possibilità, man mano che avanziamo queste possibilità si riducono sempre di più fino a che esse si concentreranno, si annulleranno nel punto estremo, nel punto finale che è appunto la possibilità dell'impossibilità di ogni altra possibilità e cioè la morte. Naturalmente nella prospettiva di Kierkegaard che è una prospettiva cristiana, la morte è il preludio di qualche cosa di infinito ma l'angoscia anche per uno spirito religioso come Kierkegaard non può essere facilmente superata, non ci si può consolare del tutto proprio perché la condizione umana è come abbiamo detto poco fa caratterizzata da questa contraddizione di fondo, caratterizzata da questo paradosso, caratterizzata da questa insufficienza che necessariamente nel pensiero di Kierkegaard richiama la fede in Dio, la fede in Dio diventa quasi una scelta obbligata che naturalmente obbligata non può essere ma diciamo così diventa l'unica scelta che può aprire uno spiraglio sia pure all'interno di una condizione angosciata del fedele dell'essere umano che è sempre e comunque limitato dal peccato originale. Ma vediamo appunto come in Kierkegaard l'uomo cerchi di sfuggire all'angoscia. Nella trattazione manualistica di solito vengono elencate tre modalità attraverso cui il singolo cerca di come dire di uscire dall'angoscia cerca di esorcizzare questa sua condizione naturalmente senza riuscirci senza riuscirci se non attraverso un cieco affidarsi a Dio e questi tentativi chiamiamoli così vengono espressi attraverso tre scelte, attraverso tre modalità di esistenza, si parla di vita estetica, di vita etica e di vita religiosa. Ecco in che modo quindi uscire dall'angoscia? Kierkegaard ci racconta della modalità dell'esteta, della vita dell'esteta. L'esteta è il Don Giovanni, l'esteta è il seduttore, l'esteta è l'uomo, la donna in cerca di sempre nuove avventure, che è nell'affannosa ricerca di piaceri, non soltanto di piaceri diciamo così carnali, sessuali ma anche di piaceri elevati, è un artista l'esteta, è una persona raffinata, una persona sostanzialmente che vive la vita momento dopo momento. Alla figura dell'esteta si può costare senz'altro il carpe diem, quindi cogli l'attimo, il cogli l'attimo, il carpe diem costituisce un po' la parola d'ordine dell'uomo estetico che non pensa al futuro, che non progetta la sua vita, se non nella misura del presente, se non per cogliere ogni attimo che si offre al godimento estetico, al piacere dei sensi, in modo tale che quell'angoscia che in un certo senso preme dal fondo della nostra coscienza sia dimenticata, sia esorcizzata, sia messa da parte. Ma naturalmente questo non è possibile, per quanto io possa dimenticarmi in una girandola di divertimenti, di svaghi, di imprese artistiche o sessuali o letterarie o di qualunque altro genere, evidentemente io non posso superare la mia condizione umana, devo fare i conti prima o poi, con quel limite costitutivo di cui abbiamo parlato, devo fare i conti con il fatto che prima o poi, ecco, ogni tentativo estetico, diciamo così, di uscire dalla mia condizione, riprecipita nel nulla, riprecipita nella noia. E quindi il piacere, ripetuto, perseguito, spasmoticamente, prima o poi, dice Kierkegaard, si trasforma in un sentimento di noia, in un sentimento di disgusto della vita stessa. E a questo proposito Kierkegaard evoca l'immagine di Nerone, Nerone che dopo essersi dato a tutti i piaceri che la sua condizione di imperatore, il suo potere gli consentivano, egli al colmo della noia, al colmo quindi anche della disperazione, Nerone cerca un ultimo piacere estremo, folle, nell'incendio della città. Quindi Nerone che dà fuoco a Roma è il simbolo dell'uomo estetico che non trova più modo di fuggire dall'angoscia, attraverso i piaceri, attraverso il godimento, attraverso il carpe diem, che si annoia di tutto, in un certo senso, che cerca eccitazioni sempre più grandi, sempre più forti, ma che è destinato, in un certo senso, a ricadere sempre nella noia, a non superare l'angoscia che grava come un destino ineluttabile su ogni essere umano. E dunque l'esito della vita estetica non è quello che l'esteta sperava, cioè il godimento, ma è piuttosto il suo contrario, è la noia, è la disperazione. A questo punto, senza che vi sia uno sviluppo naturalmente, quindi non è che si passa dalla vita estetica alla vita etica alla vita religiosa, come nella dialettica egeliana, dove un momento inferiore nello sviluppo della coscienza dà luogo sempre a momenti via via superiori, via via più alti, qui diciamo le scelte possono avvenire come possono non avvenire. L'uomo può scegliere di permanere nella vita estetica o a un certo punto, per chissà quale caso fortuito, può decidere di cambiare vita, ma può farlo, può anche non farlo. Dunque in Kierkegaard queste possibilità, queste alternative, una delle sue opere si intitola proprio Out Out, quindi la scelta è o la vita estetica o la vita etica, cioè questa scelta che si parla davanti all'individuo e io posso scegliere, posso anche non scegliere, posso anche diciamo così, permanere nella condizione originaria, così come posso fare il salto e cambiare la mia vita radicalmente. Allora supponiamo che a un certo punto io decida di cambiare, supponiamo che io voglia cambiare vita e che metta la testa a posto per così dire e decida di diventare un uomo etico. L'uomo etico chi è? L'uomo etico è sostanzialmente l'uomo di Hegel, l'uomo che si è universalizzato, l'uomo che cerca in qualche modo la propria realizzazione in un progetto di vita, in un progetto di vita che quindi richiede la disciplina del lavoro, richiede il rispetto di determinate regole, richiede che si fondi una famiglia, che si abbia cura dei figli, che si costruisca qualche cosa. Se io svolgo un determinato lavoro, la vita etica implica che io compia questo lavoro nel rispetto puntuale del mio dovere e qui la figura che viene creata da Kierkegaard è quella dell'assessore Guglielmo, di questo burocrate, di questo ufficiale scrupoloso, padre di famiglia, che compie puntualmente il proprio dovere e che appunto progetta la sua vita. Non vive il momento, non vive nel presente come l'uomo estetico, disinteressandosi del futuro in un certo senso, illudendosi che il godimento di ogni momento presente possa in qualche modo liberarlo dall'angoscia, ma in effetti l'uomo etico costruisce la propria vita, si universalizza, è l'uomo egheliano, l'uomo che manda avanti la società, manda avanti il mondo, ma anche l'uomo etico, anche l'uomo etico attraverso il suo lavoro, attraverso il suo scrupolo, non può evitare, non può evitare una sorta di pentimento, l'agire dell'uomo etico non è mai libero da peccato in un certo senso, l'agire dell'uomo etico deve sempre rimproverarsi qualche cosa, non c'è nessuna azione per cui poi non ci si debba pentire di qualche cosa, e nonostante tutto l'uomo etico non può evitare di assumersi delle responsabilità e quindi anche di provocare il male, egli prima o poi si pentirà, si pentirà di qualcosa, avrà il senso di non aver compiuto mai fino in fondo il suo dovere e cercherà sostanzialmente di tacitare la sua coscienza attraverso un atteggiamento conformistico, attraverso un ossequio formale alle regole della convivenza civile e diventerà più o meno un fariseo, diciamo così. A questo punto si profila un'altra modalità di vita, quella in cui Kierkegaard sembra ravvisare una specie di ancora di salvezza, e è la vita dell'uomo religioso, e cioè la vita religiosa, la vita religiosa che viene incarnata dalla scelta di Abramo, Abramo a cui Dio ordina di sacrificare il proprio figlio Isacco, l'unico figlio che aveva, e glielo ordina dopo che gli aveva promesso che avrebbe avuto una grande discendenza. Quindi vedete che la scelta della fede è una scelta assurda, è una scelta paradossale, è una scelta che non si comprende, e tuttavia Abramo sceglie la fede. Abramo sceglie di obbedire al suo Dio ciecamente, senza la pretesa di comprendere, e si appresta quindi a sacrificare l'unico figlio, proprio quel figlio che avrebbe dovuto dargli, secondo la promessa di Dio, una discendenza, e che avrebbe dovuto consolare gli anni della sua vecchiaia. La scelta di Abramo, dunque la scelta della fede, è una scelta che sfugge a qualsiasi motivazione razionale. La scelta della fede è dunque l'unico modo di sfuggire all'angoscia, se non completamente, ma diciamo così, perlomeno di porre un'argine all'angoscia, di trovare in questo cieco affidarsi a Dio, che c'è confidarsi perché non cerco una spiegazione, non cerco una motivazione razionale. Come l'uomo etico, anche il gesto dell'uomo etico, pensiamo al gesto per cui la re Agamennone si appresta a sacrificare la figlia, l'ifigenia, per rendere la spedizione dei greci gradita di dei, anche questo gesto non è un gesto religioso, è un gesto etico, per quanto a noi possa risultare strano, è proprio perché il sacrificio della figlia serve a un scopo più alto, quello di rendere gli dei propizi all'impresa di un intero popolo. Ma la scelta religiosa non ha neanche questa giustificazione razionale, è paradossale, è scandalosa addirittura. Se noi pensiamo al cristianesimo in cui campeggia la figura di Dio crocifisso, e con Dio crocifisso evidentemente è qualche cosa di scandaloso, Dio che è appunto un essere supremo e che viene trattato come l'ultimo dei malfattori e che viene messo sulla croce. Quindi questo elemento di scandalo, di paradossalità, che è sempre contenuto nella scelta dell'uomo religioso, è al tempo stesso, diciamo così, l'unica via, l'unica scappatoia che l'uomo ha di, come dire, di abbandonare la propria condizione finita e di affidarsi completamente a Dio. Quindi l'unico spiraglio che si apre sull'infinito consiste proprio nella fede, in questa scelta, consiste proprio nell'affidarsi completamente alla volontà di Dio per quanto questa volontà sfuga ai parametri della ragione umana, per quanto questa volontà possa addirittura sembrare assurda, crudele, incomprensibile.